Un'azione congiunta tra i carabinieri di comandi provinciali di Cagliari e Ristano, coordinati dalla procura di Ristano, ha portato nella mattinata di oggi al sequestro di 3.300 piante di cannabis. Una piantagione che occupava circa un ettoro di terreno nelle campagne di Arborea. Un giovane di 18 anni che stava al momento innaffiando il terreno è stato tratto in arresto con l'accusa di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio e di droga. Oltre alle piante, in un capannone adiacente sempre gestito dal giovane arrestato, sono stati ritrovati e sequestrati anche 80 kg di marijuana già essiccata. La piantagione era già nota ai carabinieri che la seguivano da tempo, ovvero da quando le piantine erano appena state impiantate. Arrivate a maturazione, momento in cui si può rilevare il tenore di THC che ha risultato pari a 3.33 come rilevato dagli specialisti del RIS dell'arma, i militari sono arrivati sul terreno direttamente con mezzi agricoli che hanno provveduto a raccogliere le piante e trasformarle in rotoballe già pronte per essere distrutte. All'azione congiunta ha partecipato anche lo squadrone ritrasportato dei cacciatori di Sardegna.